Penso Cassalia, Concetta Sorbilli, Maria Cinanni, Domenica Fulco, Giacomo Mauro, Paolo Cilione e Umberto Fabio Falcone da domani potranno tornare in servizio presso il comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria. Il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, Vincenza Bellini, ha infatti disposto la revoca del provvedimento con il quale era stata disposta la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio rivestito per la durata di mesi 12. Secondo il giudice, infatti, in base agli elementi di novità prodotti, non sono state ritenute più ravvisabili le esigenze cautelari che determinavano allo Stato l'inibizione all'esercizio dell'attività lavorativa. Grande la soddisfazione dei legali dei sette agenti, gli avvocati Attilio Parrelli e Marco Tullio Martino che con un'imponente produzione documentale, indagini difensive, testimonianze e accesso agli atti presso il comando di Polizia hanno da sempre sostenuto la legittimità e l'assoluta onestà dell'operato dei propri assistiti che adesso dovranno comunque affrontare il processo che inizierà con la celebrazione dell'udienza preliminare che probabilmente inizierà tra qualche settimana. Poche settimane fa era stato emesso, infatti, l'avviso di conclusione delle indagini preliminare da parte dell'ufficio di procura che dopo aver emesso parere negativo all'istanza dei legali continuerà a sostenere l'accusa in giudizio.